Hello friends, welcome and welcome back to my channel. Ragazzi, oggi dobbiamo fare degli esercizi per gli principianti, perché mi avete scritto tanti e comunque è abbastanza normale per tutti, così tutti possono fare degli esercizi. Allora, oggi faremo uno cardio a bassa intensità, ok, per i principianti. Per questo allenamento non ci serve nulla, ok, soltanto un tappetino, l'asciugamano, davvero, ti hai gloria e una buona forza di volontà, quello che non basta mai. Ragazzi, se non siete ancora iscritti al canale, iscriviti perché più siamo e più ci divertiamo. Allora, iniziamo come al solito, con un piccolo installamento. Allora, iniziamo, gambe ricaricate, ok, più ampia delle spalle. Andiamo a portare il braccio dentro, tocca la punta del piede, finito, e la mano, l'altra mano, finito, allogata dietro, ok? E facciamo la stessa cosa, gambe, stelle, ok? Togliamo il centro e incrociamo. Fuori l'aria, l'altro braccio stelle dietro, ok? Incrociamo, poi ancora cinque, quattro, tre, due, uno, e stop. Adesso, high knee, portiamo la ginocchia, rosso al petto, e la manteniamo. Comunque, anche, sono dei saci ster principiante che sto facendo a me, anche quelli più allenati che possono fare. Soltanto, esempio, invece di fare così, vai, la più veloce, te voli, ok? Tutti possono allenarci. Ok. Andola. Spotti. E otteniamo un po'. Dopodiché andiamo a fare la rotazione al busto, ok? Ancora cinque, quattro, tre, due, una, rotazione al busto. Giriamo, prima verso l'altra, destra, gambe divergate. Destra, finita, petto alto, fuori l'aria, giri, come vuoi. Per portare i bracci così, puoi rubiarli, e non rubiare. Ecco. Uno, due, cinque, quattro, tre, due, uno, e stop. Adesso andiamo a portare la palma indietro, così, ok? Palla indietro, piano, compriamo bene, mettiamo l'aria di sull'avanti, poi l'aria, giri, e non rubiare. Un, due, cinque, quattro, tre, due, uno. Ok. Cinque, quattro, tre, due, uno. Adesso andiamo da avanti e portiamo il braccio in alto. L'avanti, tocca per terra, e in alto. Se non puoi toccare per terra, fai niente, arrivi dove puoi. Non devi esagerare. Ok. Se lo puoi anche, abbassandosi, fa uno squat, quelli che sono più allenati, ok? Facciamo squat, e ok. Se non così, le gambe tette, così, allorghiamo anche i femorali, e tutte le cartelle possibili, ok? Tutti i fuori, e su, giù, e su, proprio sopra la testa, in alto, braccio, tecchio, ok? Ok. Adesso ingrociamo il braccio per iniziare. Ok, allora, lavoriamo così. Saranno tre parte. Ogni parte ci sono tre esercizi, che faremo in due serie, ok? Poi a casa, con i tuoi allenati, mi ripeto, possono fare tre serie, quattro serie, dipende, ok? Allora, lavoriamo così, quattro secondi per ogni esercizio, e quindici secondi di riposo. Dai, mi portate, e iniziamo. Ci sono? Ok. Allora, ancora dieci secondi, vi faccio vedere il primo esercizio. Ci mettiamo sumo squat, ok? And knee raise. Quando fai sumo, più dei fuori, ginocchiamo, sopra la punta dei piedi, ok? Scendiamo, e fai incontrare il gomito a ginocchia, ok? Posta la ginocchia verso il gomito. E fai questo movimento per lavorare gli addominali, soprattutto gli obliqui, ok? Giù in squat, petto alto, così, glutei fuori, ginocchia non superato per i piedi, ok? Qua stiamo lavorando la parte bassa, e anche la parte alta, addominale, quasi tutto il corpo. Bravissimi, adesso ci mettiamo per terra, la posizione dello squat, andiamo a camminare, una piccola camminata, da destra a sinistra, let's go. Coprite i fuori, se non puoi arrivare troppo giù, non è un problema, ok? Bravissimi, petto alto, apri, chiudi, apri, chiudi, camminando. Vai, poi l'aria, balissimi, attivano l'aria perfetta. Quindi sempre fuori, più giù che vai, più vai a lavorare più bene, ok? E iniziate con i piedi, più mezzo spacco in mani, i valori, soprattutto per i cibi. Il prossimo, andiamo a fare il weird step lunges. Allora, vi faccio vedere. Torno, allunghi la gamba, e ogni volta cambi, ok? Così, e torno. Cambiamo. Dentro. Quando allunghi la gamba, il piede dietro, anche il braccio si alza, ok? Quelli più allenati possono fare un affondo, mentre che alzi il braccio. Allunghi la gamba, ok? Overhead. Buonissimi. Metto davanti, allunghi i dietro e torno. Cambi la gamba, ogni volta a destra. Sinistra. Buonissimi. E facciamo tutto a capo per la seconda serie. Come avevo detto, due serie, ok? Se vai a casa, puoi fare tre, quattro, come vuoi te. Dipende il tuo livello di allenamento. Sumo squat. Sumo. Knee raise. Sumo. Knee raise. Archi bene il chinocchia. Scendi un pochino il vomito per fare quel movimento di quenciare, diciamo così, per lavorare bene il tuo livello. Scendi in suono. Scendi. La vischia. Sperto alto. Coprati. Glutei quando scendi in squat. Fuori. Fa un modo che ginocchia, non supera la punta dei piedi. Ok. Perfetto. Walking. Squat. Ok? Meno veloce. Ricordati. Iniziamo da destra a sinistra. Andiamo di quella parte. Uno. Due. Tre. Uno. Due. Tre. Più in giù che puoi, più va a lavorare i capelli posteriori. Ok? Petto alto. Yes. Uno. Due. Tre. Uno. Due. E tre. Se non puoi andare troppo il giù, non è un problema. Rimani in mezzo squat. Ok? Uno. Due. Tre. Dieci secondi. Due. Tre. Uno. Due. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E stop. Rest. Due next. Don't fly. Ok? E cambiare le gambe ogni volta. Ok? Pronti? Quelli più allenati può fare un affondo. Ok? Let's go. Allunghi. Allunghi e torni. Allunghi e torni. La riga. Allunghi la gamba dietro. diamo i piedi di destra, allunghi e torno, quando allunghi braccio in alto, vai, allunghi e torno, dopo faremo una bella pausa, ok? ok ragazzi, dopo abbiamo fatto mezz'ora, mezz'ora, 30 secondi di riposo, adesso il primo esercizio vi fatevi già vedere, incroci la gamba e mettiamo la destra, incrociamo e poi apri il petto, mezzo, incroci dietro, apri, quando incroci dietro, apri il petto e torno, apri e torno, ok? così lavoriamo tutto il corpo, apri e torno, lavoriamo la parte bassa, la parte alta, apri e torno, incrociando dietro, addome contratto, per secondi, perfetto, ok, bravissimi, 15 secondi di parola, il prossimo facciamo double high, ok? hop, 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 e push, ok? 1 e 2, la stessa cosa, la parte bassa sta lavorando, manca la parte alta, push, push, mi metto, e poi vai, puro, 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 pu Sign, reach and sign, incrociamo ok, il braccio destro va a toccare la punta del piede sinistro ok, hop e viceversa, hop, incroci, hop, hop, in alto, incroci, braccio destro va a toccare la punta del piede sinistro e hop, hop, quando il braccio destro va a toccare la punta del piede sinistro, il braccio sinistro va allungato dietro un po' ok, così, ultimo, ok, perfetto. Uh, toccato, sono più idioticico come avevo detto ogni parte, adesso ancora lateral step pull ok, incrociando dietro, apri, chiudi, apri, tu apri, chiudi, quando torni, chiudi, quando incroci dietro apri il petto, chiudi. Sì, noi stiamo lavorando il petto, la gamba, gli addominali, quindi bene, con quale, gli addominali, bravi, apri, bene, poi l'aria, left, bravi, 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 doberhe, in elettro ok, uno, due, cambiamo, uno, due, let's go, uno, due, uno, due, il braccio davanti e poi dietro ok? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 manca poco 20 secondi bravissimi ancora dai 10 secondi fissiamo 5 4 3 2 1 e west ok? il prossimo ricordati side reach side and reach ok? 5 secondi iniziamo bevi 6 7 e iniziamo let's go side reach tocchi incrociamo off incroci off incroci off incroci bravissimi 20 secondi poi dopo di che andiamo a lavorare gli addominali ok? mettiamoci da tela off da lavorare gli addominali ancora 5 secondi 4 3 2 1 and west ok? 30 secondi di pausa ok ragazzi adesso abbiamo quasi finito il nostro tempo di riposo adesso vi faccio vedere il prossimo esercizio ok? schiena ben accoggiata per terra la gamba lo alzi ok? andiamo a portare toccare la caviglia poi lasci la gamba sinistra in alto fai scendere a destra e torni ancora tocchi i cavigli adesso questa volta per la sinistra centro e per tornare ok? è sempre così let's go iniziamo porti la caviglia e la destra giù la sinistra sempre in alto porti la caviglia adesso la sinistra giù la destra sempre in alto ok? sempre così let's go tocchi e cambiamo gamba ogni volta se è troppo difficile questo rimani in questo modo ok? la gamba piegata e fai ok? crunch come si dice non so se esiste questo verbo in italiano va bene poi l'aria ok? perfetto il prossimo andiamo a fare un squat ok? sul vomito ok? andiamo a triccare la punta del piede al dietro e cambiamo ogni volta così ok? le giù tocchi tocchi e torni e torni in posizione del tronco tocchi 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 ok? vabbè 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 dentro lo rubo di diretta tocchi 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 e torni tocchi e torni e torni e torni bravissimi siamo quasi ok? il prossimo invece sempre la posizione del plank ok? sul ginocchio andiamo ad allungare il braccio tutto tutti i due bracci la destra prima la sinistra poi rialziamoci adesso la sinistra e la destra ok? oh rialziamo ok? adesso ci mettiamo nella posizione del tronco o se no rimaniamo sempre sul ginocchio allungando ok? quelli più allenati ci mettono nella posizione del tronco normale ok? alziamo rimaniamo sul ginocchio leg raise ok? arm raise and leg raise arm raise and leg raise ok? tutto a capo allora ci mettiamo quelli sui tonni uh ci spieghiamo delle ricette e la stessa cosa ricordati tochi tochi la caviglia poi fai scendere la gamba destra e togli tochi e sempre così dai let's go cambiamo tochi cambi tochi cambi ricordati se hai difficoltà se hai difficoltà piega le gambe ok? e fai un bel crunch bravissimi tocchi tocchi cambi gamba rest ok? ok? è l'ultima te ragazzi vai allora sul ginocchio allora in una posizione ginocchio ok? andiamo a toccare i taloni dai giù girati e giù sul vomito ok? rimaniamo anche sul ginocchio bravissimi guarda è l'ultima serie dopo questo manca soltanto un esercizio per finire dai prendi il tuo tempo non devi avere fretta devi controllare te in tuo workout sei andato un po' veloce da te tu vai al tuo ritmo ok? sempre su ginocchia arms and leg raise ok? uno due poi uno and due ok? let's go uno due la gamba adesso uno and due uno e due uno e due dai due due uno e un braccio prendi la posizione braccio ok? due tre e due dai dai da poco da finire questo allenamento allenamento poi il corpo si adatta piano piano si fa di tutto rarissimi piano piano ragazzi si fa di tutto può essere all'inizio è difficile dice mamma mia a cavolo quanto mi fa male ma se lo fai non mollare soprattutto quella è quella importante e provi di farlo almeno una volta no due volte alla settimana e vedrai anche il corpo si aditua adesso andiamo a fare un piccolo stretching ok? rimaniamo sul tappetto beh che già il tappetto c'è andiamo ok scendiamo così quindi l'appoggio sul braccio e alziamoci il petto che è la pressione della cobra e rimaniamo gambe e tene senti il contratto le mani espira ok poi vai questo è il tuo momento per rilassarsi ok da qua andiamo dietro due sei su live appoggiare sul salone ok così un po' di seduta e vai a allungare il braccio davanti e la testa a mezzo il braccio rimaniamo rimaniamo rimane bravissimi poi l'aria qui la testa ok adesso da qua rimanendo finiamo la posizione del patino ok andiamo allungiamo il braccio davanti il tappetto che ci diva ok in questo modo in questo modo che il gluteo in alto gambe tene e allunghi bene lo guado verso l'omberico e rimane rimaniamo bravissimi 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 perfetto avviciniamo la gamba verso il braccio e rimaniamo per allungare bene il femorale rimaneci ok andiamo su e andiamo ad allungare i mancini portando bene e ginocchia ben così come si dice verso il pavimento ok così allungare bene i pavimenti appoggiati così no abbraccio e salone su casi sei ok soprattutto da ginocchia verso il pavimento così questa parte si allunga bene torniamo questa parte oltre il braccio in alto ok in alto adesso in alto una lunga del feride facciamo vi faccio vedere porti il braccio iniziamo con il braccio destro allungalo così e poi aiutalo a rimanere con il braccio sinistro e rimanendo rimanendo rimaniamo ok facciamo la stessa cosa adesso il braccio sinistro allunghiamo ok sopra il petto a livello del petto e lo manteniamo con il braccio destro ok rimanendo rimanendo bravissimi adesso andiamo ad allungarci bene come si fosse c'è qualcuno che ti sta attirando braccio in alto e anche qualcuno che sta tirando la gamba così rimanendo allora allunghiamo 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 più che poi allunghiamo ragazzi con l'ho già sempre detto lo dirò fino alla fine quando avete il 5-0 workout non soltanto la volta a solo non vederà mai le funzioni a meno due volte adesso è più vana per poter avere le montagne niente, allora oggi, spero di essere tutto è appena finito il workout caldo a bassa intensità grazie mille anche oggi di essere arrivati con me spero che il video ti sia piaciuto se è così, mettiamo un like iscriviti al canale perché lo sai, più siamo e più ci divertiamo condividi per favore il video così a meno la gente vede il canale cresce, così a fila ci sono gente che allora vi saluto, vi aspetto su Facebook, su Instagram ragazzi, grazie mille ancora, vi saluto con Facebook, ciao